Questa si chiama Blasto Fica Le stranger cose e le cose strane La gente dell'internet che si collega per la prima volta deve sapere che queste inutilità sono importanti Infatti come dice la Bookies on the table Apprendere quelle che sembrano informazioni totalmente inutili in realtà è un ottimo esercizio per il cervello Tu parlavi di disintossicazione della figa, in realtà no Siete cosa sono i fichi? I fichi è un frutto Il fico è un fiore Questa è una curiosità che in tanti non sanno E hanno anche degli insetti morti al loro interno Quindi voi state mangiando un fiore pieno di frutti con dentro degli insetti Ma raga ma questa cosa mi sta mettendo un terrore Questa è la vespa che impollina il fico comune Proprio per rimanere in tema di disintossicazione da fica Questa si chiama Blasto Fica Blasto Fica Va dentro e si rompe le ali, le antenne, depone le uova, muore lì dentro E sono le larve che escono e vanno a impollinare gli altri fichi È una simbiosi pazzesca Il fico non nascerebbe senza questo insetto E la Blasto Fica morirebbe se non ci fosse il fico Quella curiosa proprietà, quella di digerire l'insetto Renderlo praticamente Pappa Quello che noi sentite scricchiolare sotto i denti Sono le larve moro E questa è la ripesa ragazzi Non lo sapevo Quindi basta fichi per sempre Ti continuerò a mangiare Io passo direttamente altro Le mele? Le mele? C'hanno qualche altra cacata dentro Chi muore dentro la mela? Nessuno No La pesca? È che ti senti un po' stupido se non sai queste cose Ci tengo a dire Non so più niente Imparatemelo voi Scusa un secondo Non ho capito il mondo Spiegateci anche a noi Imparatemelo voi